I cristiani, tale giorno, è visto solo come un giorno riservato al riposo e al tempo libero, senza alcun riferimento alla pratica religiosa. Oggi ci troviamo di fronte a una cultura post-cristiana, che ha smarrito il riferimento alla tradizione apostolica nel celebrare il giorno del Signore. Molteplici sono state le cause che hanno contribuito a tale situazione, ma è altrettanto vero che i cristiani hanno urgentemente bisogno di riappropriarsi di questo giorno, scoprendone l'autentica valenza religiosa.